Non mi riguarda la violenza sulle donne, non mi riguarda. Sicura che non ti riguarda? Sicuro che non ti riguarda? La violenza sulle donne è un fatto culturale. Ci riguarda tutte e tutti. Uscire dalla violenza si può. Possiamo accompagnarti. L'albero di Antonia. Centro antiviolenza per donne che non vogliono più subire violenza. Il centro offre ascolto e sostegno alle donne, consulenza legale, accompagnamento competente per uscire dalla violenza di genere, corsi di autostima e autodifesa, azioni per il cambiamento culturale, educazione di genere nelle scuole. Abbiamo il potere di cambiare. Io ce l'ho fatta. Non sei sola. Insieme è più facile. La violenza sulle donne ci riguarda. Un vero uomo non picchia. Noi diciamo no! Noi diciamo! Noi diciamo! Noi diciamo! Noi diciamo! Lisinsiamo! Noi diciamo! CheAd La paura libera di godere, libera e sicura, libera e sicura, immagina!